Noi intanto partiamo da quello che vediamo e abbiamo visto sicuramente una mancanza di manutenzione clamorosa sui piloni dell'autostrada. Poi, secondo Strada dei Parchi, che ha fatto delle prove sue per quanto riguarda la stabilità da un punto di vista statico, e dice che sono in sicurezza, però i dati che ha evidenziato sono comunque molto vicini al limite sopportabile. Quindi, insomma, questi sono i dati di Toto. Noi riteniamo che, viste le condizioni dei viadotti, serva una verifica di un ente pubblico. Cioè, tutta la parte statica deve essere vista con le prove sul calcestruzzo e così via dal ente pubblico, per tranquillità di tutti, sia di Strada dei Parchi, sia del Ministero, sia soprattutto degli utenti. Vogliamo verifiche attente sulle somme spese, su quelle che non sono state spese, anche perché noi paghiamo fior di tariffe per questa autostrada, che è molto costosa, e vorremmo capire come sono stati spesi i soldi in questi anni, soprattutto perché poi, sicuramente, anche per la questione dell'antisismica, questa autostrada dovrà ricevere investimenti molto, molto consistenti. Stiamo parlando di circa 3 miliardi di euro nei prossimi anni. Crediamo anche che, prima di far spendere i soldi, vorremmo anche capire chi li spende, cioè se è toto facendo i lavori in house, oppure se si fanno delle gare. Noi riteniamo che in tutto questo bisogna fare chiarezza, anche per quanto riguarda la filiera degli appalti.